Ferrari SF71H, la nuova monoposto della rossa, è stata presentata in una Maranello innevata per l'occasione. Questa vettura arriva dopo la SF70H, una monoposto decisamente innovativa che ha fatto scuola. Parliamo della nuova nata della rossa con il nostro Paolo Ciccarone. Ciao Paolo. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, raccontaci qualcosa di questa monoposto. Quali sono gli elementi più interessanti secondo te? Beh, da quel poco che si è visto dalla presentazione online della Ferrari e perché l'ha vista in tv, gli elementi innovativi stanno tutti quanti nella parte centrale della vettura, perché ho l'impressione che il musetto con l'ala anteriore siano quelli vecchi e quindi ci sarà ancora qualcosa da scoprire durante i test. La parte centrale è veramente molto interessante con uno sdoppiamento delle prese dei radiatori, ma addirittura ci sono delle prese d'aria e delle piccole aelette anche negli specchietti elettrovisori e dei deviatori di flusso che ricordano molto quelli del 1999, quelli famosi della squalifica di poi rientrata di Irvine nel Gran Premio di Malesia. Quindi dei concetti nuovi e vecchi messi assieme. Il passo, come ha detto anche l'ingegner Binotto, che è la responsabile della parte tecnica, è stato leggermente allungato. La Mercedes ha leggermente accorciato, quindi avranno trovato finalmente un punto d'incontro. Di solito si dice monoposto bagnata o sposa bagnata, sposa fortunata e monoposto fortunata. Qui speriamo che anche monoposto innevata possa avere lo stesso significato. È vero anche perché invece la Mercedes a Silverson ha debuttato incredibilmente, visto il luogo geografico, sull'asciutto. Quindi vedremo la cabala lì come funzionerà. E tu parlavi proprio della zona tra l'altro dei deviatori di flusso, che è un argomento assolutamente preponderante. Quest'anno, visto che si tratta di una soluzione implementata per la prima volta sulla SF70H, che diversi team hanno ripreso. Quindi tu mi dicevi che c'è stata un'ulteriore evoluzione di questo concetto da parte dei tecnici, di primo acchito quantomeno. Sì, da quel poco che si è visto, ripeto, vedendola a distanza, la macchina dimostra di essere pensata e di avere uno step in più rispetto all'anno scorso. Come spesso succede, chi copia arriva dopo. Quindi hanno copiato un concetto introdotto dalla Ferrari l'anno scorso, ma la Ferrari evidentemente, per fortuna, è andata avanti. Adesso bisogna capire se questo allungamento del passo con il maggior peso dell'alo, tra parentesi dal punto di vista estetico, rosso, col bordino nero, è molto più elegante rispetto ad altre macchine. Bisogna vedere appunto se la distribuzione dei pesi è stata indovinata e quindi se il bilanciamento ottimo della macchina dell'anno scorso è rimasto anche quest'anno. Ma non dovrebbero esserci dubbi e credo che la Ferrari, con quello che ha fatto vedere, ha dimostrato di aver fatto un altro passo in avanti rispetto a una Mercedes, che come hai detto ha già girato a Silverstone e quindi la speranza di una macchina competitiva per il mondiale c'è tutta. Anche perché in questo caso l'unico obiettivo ovviamente è la vittoria. L'anno scorso la Ferrari ha concluso il mondiale costruttore in seconda posizione ma ha più di 100 punti della Mercedes, per cui quest'anno l'obiettivo è necessariamente vincere il titolo. Esatto e quindi bisognerà giocarsi tutto nelle prime gare della stagione dove con i motori freschi e una macchina che se è indovinata riesce già ad avere un certo vantaggio, la speranza è proprio questa. Ripeto, secondo me la Ferrari è ancora qualcosa in servo perché lo staff aerodinamico ha dimostrato di avere delle idee, di avere introdotto dei nuovi concetti ma cosa più importante abbiamo visto la parte anteriore e una parte dell'ala posteriore così disfuggita che danno l'impressione di essere stati messi lì tanto per fare la presentazione e completare la macchina ma di non essere assolutamente quelli definitivi. Quindi una Red Bull che ha presentato una macchina innovativa, una Mercedes che sembra più o meno convenzionale, tradizionale con piccoli aggiornamenti, una Ferrari che è riuscita ad aumentare ancora quello di buono che si era già visto l'anno scorso, sulla carta il mondiale Formula 1 parte con i migliori auspici. Potrebbe essere quindi una lotta a tre a questo punto per il campionato. Esatto, potrebbe essere una lotta a tre e sarà veramente interessante e divertente vedere come si svolgerà questo campionato perché Ricciardo e Verstappen, due galletti nel pollaio Red Bull, vorranno primeggiare. Hamilton avrà tutto l'interesse a mostrare che è ancora lui il migliore ma Bottas non deve sfigurare. Fettel ha capito che se la può giocare quindi di sicuro ci proverà e Raikkonen è sempre, tra virgolette, la sua stagione d'addio. Secondo me va avanti così, lui ha un contratto con la Fornero, tutta la volta arriva Maranello e dice io fino a 67 anni non vado in pensione. Infatti Raikkonen è il decano adesso della Formula 1 perché ha 38 anni, 39 ad ottobre ed è il più anziano di tutti. Quindi ha dalla sua sicuramente le esperienze. E parlerei proprio in questo momento dei piloti, quindi di questa coppia formata da Fettel e Raikkonen che è stata confermata rispetto allo scorso anno, forse anche per una questione di gestione più facile a livello interno delle cose visto che Fettel e Raikkonen vanno molto d'accordo. Tu cosa ne pensi? Vanno d'accordo perché uno deve vincere e l'altro deve star dietro. Quindi da questo punto di vista se le situazioni sono chiare il problema non si pone. Il problema ce l'avrà la Red Bull che si ritrova con due galletti da gestire e quindi diventa un po' un problema. Però come avevamo detto anche l'anno scorso sono scelte filosofiche. Quindi se tu hai dei problemi all'interno della squadra nella gestione dei piloti, i problemi non li hai fuori perché comunque vada uno dei due vince. Se all'interno non vuoi avere problemi come il caso della Ferrari, è probabile che se qualcosa va storto i problemi ce li hai fuori. Queste sono le scelte. Bisogna vedere poi qual è quella che vince. Più che altro si può anche fare un discorso dal punto di vista del mondiale costruttori perché un Raikkonen non particolarmente in grande spolvero come molte volte l'anno scorso potrebbe influenzare negativamente l'andamento di quel mondiale. Per quanto riguarda la raccolta punti sì, però non dimentichiamo che l'anno scorso Raikkonen ha fatto anche delle pole position ed è stato molto veloce e quindi visto che negli anni passati era sempre dietro ad Alonso e perdeva quei tre decimi al giro, allora i casi sono due. O Raikkonen si è svegliato di colpo oppure la coppia Vettel-Raikkonen è talmente equilibrata che probabilmente con un altro compagno di squadra le cose non sarebbero andate così. Potrebbe essere quindi una questione più che altro di costanza di rendimento. Costanza di rendimento perché Vettel sa come parte, sa come arriva e quindi bene o male è costante. Raikkonen va forte 4-5 gare durante l'anno, poi ogni tanto magari infarcisce o l'errore o la sbavatura o qualcosa perché parliamoci chiaro, in Formula 1 devi essere costante e forte al 110% e non è facile. In queste condizioni è più facile sbagliare, per cui basta un minimo errore, una minima sbavatura e ti ritrovi subito superato. E Vettel secondo te può aver imparato dallo scorso anno? Comunque ci sono stati dei momenti di difficoltà anche probabilmente a livello psicologico nella gestione di certi avvenimenti. Secondo te il tedesco può essere cresciuto visto che comunque ha affrontato un anno più complesso di quelli volendo in cui ha vinto il Red Bull e in cui le cose andavano sempre bene? Beh direi di sì perché per la prima volta Vettel nelle ultime due stagioni si è trovato un anno con una macchina non competitiva e il secondo anno a lottare per il Mondiale in una situazione di non totale superiorità come gli era accaduto alla Red Bull e quindi dal punto di vista personale ha dovuto fare i conti con qualcosa di nuovo, qualcosa da affrontare e non sempre l'ha affrontato al meglio. È chiaro che sapendo di avere una squadra competitiva tutti quanti assieme, poi bene o male sono già quattro stagioni che dentro a Maranello credo che quest'anno gli errori commessi l'anno scorso non li farà. A questo punto io tornerai un attimo a parlare di tecniche, invece parlerai del propulsore perché quest'anno come anticipato tu dovrà anche essere particolarmente affidabile perché se ne potranno usare solamente tre nel corso di tutta la stagione parliamo di 21 gare quindi è una media di sette gare con lo stesso motore. Che tipo di lavoro deve essere fatto per garantire sia affidabilità che performance? Per quanto riguarda l'affidabilità nell'intervista che abbiamo pubblicato tempo fa di Andy Cowell, il capo dei motori Mercedes bisogna rivedere e potenziare tutti i pezzi particolari che sono soggetti a stress. Un motore di Formula 1 che deve fare sette gare, calcoliamo che sono 320 km a gran premio, sono già 2.100, 2.200 km di gara. Più bisogna metterle tutta la serie di prove, quindi vuol dire che è un motore che deve superare abbondantemente i 5.000-6.000 km di durata senza accusare segni di cedimento e non stiamo parlando delle prove del venerdì che il venerdì bene o male te la puoi giocare con quello che hai in casa. Quindi un certo irrobustimento di alcuni particolari valvole, basamenti, bronzine, parlando dalla parte tradizionale di un motore, quella c'è senza dubbio. Non si possono usare materiali speciali perché alcuni materiali sono stati vietati per regolamento perché erano un po' costosi anche perché poi c'era un problema di sicurezza sul lavoro perché alcuni elementi lasciano delle polveri nell'aria che sono dannose per quanto riguarda la salute di chi ci lavora e quindi da questo punto di vista bisogna irrobustire ma al tempo stesso recuperare potenza e quindi bisogna stressare maggiormente il propulsore ovvero aumentare il numero di giri, aumentare magari certi rapporti di compressione ed è un elemento che secondo me è molto complicato però anche entusiasmante per un tecnico. La maggior potenza da dove potrebbe arrivare? Dall'utilizzo del motore elettrico quindi riuscire a gestire il turbo, l'energia che viene prodotta e che non viene dispersa, questa qui è un'altra bella sfida. E la Ferrari secondo te ha lavorato bene sul propulsore quest'inverno? Da quello che si è sentito a Maranello direi di sì, hanno raggiunto dei picchi di potenza al banco prova superiore ai quelli dell'anno scorso l'incremento è chiaro, non è stato così grosso come quello che c'è stato tra il 2016 e il 2017 però di sicuro si ritrovano con un motore che sulla carta è più affidabile, più robusto, più resistente e anche leggermente più potente. Io parlerei poi anche di un altro argomento, cioè della fornitura di alcuni piccoli componenti che l'anno scorso ha causato vari problemi ricordiamo per esempio l'episodio della candela rotta. È arrivata una nuova persona che gestirà questo aspetto secondo te la Ferrari ha imparato dei propri errori in questo ambito? La Ferrari impara sempre dagli errori, è chiaro che non era una candela come abbiamo scritto e come abbiamo detto la candela era quella che era stata data al popolo bue, tanto per dare una giustificazione plausibile, digeribile anche a quello che al bar non conosce le differenze e le sofisticazioni di un motore di Formula 1. È chiaro che il controllo qualità diventa basilare, però si scontra anche con un'altra ragione, si chiama saving, ovvero i risparmi per cui non è detto che tutti i pezzi che arrivano a Maranello debbano costare sempre la stessa cifra anche perché dovete sapere che una squadra di Formula 1 se fa 3 motori in un anno per correre più altri 3 motori per così le prove e più, quindi parliamo di 10 propulsori, in realtà in fonderia e tutto il resto deve costruire almeno 100-120 motori che poi non utilizzino 6, quello è un altro discorso e costruire 120 motori vuol dire che devi avere 120 particolari e 120 particolari moltiplicato per tot euro alla fine dell'anno ti fanno un bilancio tale che su quella cifra lì se puoi risparmiare qualcosa beh cerchi di risparmiarlo, può essere il sistema iniettore candela dell'anno scorso che costava 980 euro più IVA e che secondo loro costava troppo e quindi hanno dovuto risparmiare qualcosina ci possono essere magari dei coperchi, può essere anche una cosa banale come la verniciatura ecco per esempio i 3 kg, i 2 kg di vernice che vengono usati magari di un tipo tale che costa leggermente meno per cui in Formula 1 si sta attenti a tutto e questa è la parte amministrativa e poco eroica di una squadra da gestire che passa in secondo piano a volte rispetto a noi che però quando si rompe le macchine in griglia è quello che fa la differenza è certo, la Ferrari non vince un titolo piloti dal 2007 e non vince il mondiale costruttore dal 2008 quest'anno è l'anno buono secondo te Paolo? spero di sì, gli elementi, gli ingredienti ci sono tutti, il trend della Ferrari è in crescita e quindi la speranza che ce la possa fare la Ferrari SF71H debutterà in pista settimana prossima a Barcellona nei test prestagione che seguiremo e quindi poi vi racconteremo come andrà in pista alla prima prova vera e propria anche se poi la monoposto che vedremo in griglia a Melbourne sarà gioco forza diversa da quella che vedremo a Barcellona nel frattempo io vi invito a commentare qui sotto la nuova monoposto della Ferrari ma anche su www.automoto.it e sui nostri canali social alla prossima monoposto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti